Allora, già chiedo scusa che le mie trecce non le ho fatte oggi, sono in modalità afro-modalità It's fish! Hola Zabo Family, come state? Non me ne frega assolutamente niente, come sempre il resto Sarò sempre io, i Zabo, the goes in the city, what's up? Prenditi sta c***o di sigla Yo, i Zabo, miglior youtuber delle marche, miglior youtuber d'Italia, miglior youtuber dell'Europa E anche del mondo, b***h, non c'è nessuno più forte di me, sono il goz, il goz in the city Ebbene sì, me l'avete chiesto in tanti, me l'avete chiesto in tantissimi DM pieni, TikTok ripieni Come se fosse un panzerotto Ho perso l'auro A parte scherzi, album del Ghost, Bisha, intro, Albania Comando, Venti Beach, L'Odio, Adrenalina, 6 di mattina, Fit, Malshoi, Dexter, Pettinato, Fit, Side Baby, Giù, Cocaina Fit Dompero, Sola Fit, Hazet, non so come si pronuncia, chiedo scusa Guai, Fitnezza e Nabi e solo un uomo Allora, io dovrei prima capire quali sono i pezzi che sono già usciti Questa parola è tanto, andiamo all'intro, let's fucking go Non è stato attaccato, hanno solo manco accese le casse, che figura di me E' un'ottima domanda Quando mi chiedono che cosa ho per la testa, dico lascia stare Bisha che sta tornando, la scena ne sta parlando, allora Sentite, il costino e la bisha fra l'idolo degli scipe Se a voi che ogni giorno non mi tradite E vado fuori di se sta, ma di freddo un po' so Non so detto cazzo, non ho tanto voglio sbarare Nella testa sono batte per le stade in corso Sentivo parla, ma non mi giravo che i suoi Cambio così, ok, switch E' la mia vita Miletana, Miletana, Milensiga, Milenai Cazzo, questo è best flow, best flow Comunque l'Italia è proprio Non so se questo, cioè c'è proprio questa regola qua Ormai del fatto che nelle discoteche funziona così Se siete stranieri in generale Quindi albanesi, che siete albanesi, marocchini, neri Le possibilità che voi entriate si abbassano di brutto Ma se sei da solo, l'unico albanese In mezzo a un gruppo di bianchi Entri sicuro, 100% Entri Se sei uno da solo, che voi entri da solo Hai possibilità di entrare, ma non di entrare Ma no, non è sicuro proprio che entrerai Secondo me non entri, secondo me non entri da solo A parte che non sia un albanese che è un po' bianco Capito? Quindi può confondersi un po' con l'italiano Anche se la loro testa si capisce bene Com'è piatta dietro Ok, ho esagerato No, spaga come intro Perché secondo me ha fatto due freestyle Due freestyle ha messo tutti come intro L'inizio bello incazzato E poi l'altro molto Molto con flow e Gioco proprio di sound Quindi mille storie Cioè, prima per farti capire che sta arrivando incazzato Il bici sta tornando tutti Comunque lo stanno capendo E la seconda Per farti capire che comunque lui è uno che Bounce anche Cioè, non è solo uno incazzato Capito? Mille storie Swag, swag, swag Albania a comando L'abbiamo già sentito Andiamo subito a 20 bici 20 bici 20 bici Io non mi prendo nessuna responsabilità Su quello che stiamo per sentire E tutto quello che dirò Su quello che stiamo per sentire Cazzo, fa bro Qua senti troppi discorsi, fra Vieni Stai parlando troppo, bro Vieni Vieni a testare, coia Vieni Troppo Egi Egi, coia Egi Ma a me non fa tanto strano, eh Tutti gli albanesi hanno soldi Non c'è un albanese che dice qua Che povero non ha soldi Tutti hanno soldi Tutti voi avete siti pieni di soldi Albanese che sia in fabbrica O famoso O ricco O cripto Ha comunque Mercedes Ha comunque Mercedes Audi Clean Fisso Sicuro Quindi non cominciate a dirmi che siete poveri qua Non c'è anche un cazzo di aereo Venti bici Mai nottello Venti bici 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 Ok, quindi facile capisce Mai nottello Venti bici Secondo i miei calcoli E nottello può darti solo Ma al massimo una quadrupla A meno che non sia abbastanza ricco Per prenderti una suite In questo caso ci potrebbero entrare Più di venti bici Venti bici Tutta l'anno forte c'è Marsi Ti voglio soldi Più soldi Più soldi Finchè non mi perda Venti bici Vieni al mio concerto E vedi Sono cambiate le cose Chi passa veloce Il tempo è denaro Se fai soldi Ti passa veloce Però che quando hai soldi È tutto chill bro Ma quando che non hai soldi Che il tempo è lento 24 ore diventano 48 E poi 72 È un casino No boy Con venti albanesi Pulla poco mezzi Pesi Con venti bici Di ogni colore Di tutti Il centro Ma non c'entri un cazzo Con questi borghesi È la bici Entra il club Venti bici From the block Si capisce Mai Nutella Venti bici Entra il club Venti bici Cazzo Swag Allora Per adesso venti bici Vabbè due canzoni Ho sentito Venti bici È la mia preferita È swagissima L'Odio What the fuck Cazzo Figa Come è entrato Sìììììììone che è la bici a lui è lui damn ok devo un attimo cambiare qua le sd che ho due minuti che mi rimangono però damn yeah ragazzi siamo tornati ma che c***o ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando oppure sono io che sono stupido e sto ascoltando le cose al doppio sono io che ascolto per due o ci rendiamo conto che questo ragazzo è fortissimo spiegatemi no spiegatemi oppure sono un c***o se sono un c***o ditemelo adesso e io lo conosco ho vissuto con lui ragazzi non sta giocando non è fake ma è sempre lo stesso pezzo ti rendi conto vivo la vita di corso so che sto tempo non tornerà l'odio mi ha dato la forza e chissà dove mi porti l'odio mi ha dato un carro dimmi cosa potevo diventare l'odio mi ha dato la forza l'odio mi ha dato la fame ho detto qualcuno che mi fa un dì per i problemi chiamo gli amici per i problemi chiami la polizza scopo hotel 5 stelle una best bitch contento il c***o di plessi con questi soldi tu cosa faresti non solo testi porto la spesa al mio frate agli arresti porto un carro al mio frate ma non ha senso sto pezzo bra non ha senso sto pezzo raga no no merita un applauso merita un applauso questo pezzo è veramente hit salvo subito e per me adesso per adesso è il miglior pezzo l'odio veramente complimenti tre minuti di rap tre minuti di cambio flow tre minuti di barre tre minuti di cose sensate che hai detto mi piace questa cosa mio fratello si svevole ad andare a sparare ulo adrenalina comunque lui è ancora è ancora rimasto nel drill un po' quel mood lì drill cattivo cioè non ha provato diciamo a livello di produzione non c'è quell'evoluzione tipo si c'è molto più bounce e lo sa fare lo fa molto bene adrenalina palla no balla salva una famiglia c'è il diavolo detra quella porta che origlia è l'attaria piena di albanesi mafia milano in tutti i quartieri vengono sono quelli più veri autostrada senti l'attenzione contatti amici in prigione con tanti incubi e pistole che gli tre mi pare adrenalina palla no balla salva una famiglia c'è il diavolo detra quella po' mi fido di tutte queste puttane stanno come serpenti dentro al mio netto non rendo più stagli nel mio cassetto c'è la bici ok questa la considerei riempitiva tipo cioè comunque è un bel pezzo che sto messo dentro però non mi piace così tanto perché è sembra roba già sentita 6 del mattino fit malcio e dexter siamo di un'altra pasta però ci piace mangiare la pasta chi vuole capire capisce la sentono fino a Catania siamo nella scena non solo più in strada scipe di Milano scipe di tiranna scipe aperta che ognuno di noi fra stavano e la marda che Dio benedica le case sei mattina non c'è nessuno più accanto a me non c'era nessuna non c'era idea mi prendo finire dentro nel carcere poi prendi le chiavi butta tutto quanto rimetta le scipe che ti fanno i buchi se parli rapper sono di Milano non sono di Milano giorni io vivo di Prato plomo lavendo davanti al pomo soggetto pericolosi si fanno la fila vogliono la cocaina sto accanto a me c'era nessuno non c'è di te mi prendo ciò che mi merito di dietro la mia macchina sembro lo scoda le immagini in questi mesi ho parlato poco con la mia ragazza più con il mio avvocato ho letto commenti gli stessi che stanno sui social per la coca con i debiti con le pesate in bilancia nessun perché si sono lì non do chiamo Marcio il gostino e facciamo una hit come al solito c'è la benzina vorremmo della magia quando c'è foto c'è mi prendo ciò che mi merito quello che mi merito che è Marcio è la chillata più di tutti for real for real Marcio è la chillata più di tutti bel pezzo comunque non è da sottovalutare comunque Marcio è uno di quei ragazzi lì che secondo me bisogna aprire un po' gli occhi su di lui perché è forte è forte solo che forse è molto nel suo capito che alla fine era cosa giusta è molto con i suoi ship mentre magari quelli che sono un po' come lui a livello di fama sono tutti insieme quindi si creano un menù gruppetto si raggono insieme si fanno i fit insieme come hanno fatto tante volte tante cose tante volte con Bimbi e Ali e Aila all'inizio adesso poi si è creato il tridente Kidi Yugi Tony e Arti5 capito ora anche Astro Glocky Faneto tutti loro comunque si creano i gruppi e poi si cerca di insolvenire mentre lui è molto nel suo magari è questo Marcio Dexter e Ghost magari è il loro trio di ship però secondo me bisogna aprire bene gli occhi su Marcio è forte Fettinato ho già sentito giù comunque le produzioni picchiano capito quando ti prende proprio da quando cantava canzoni sul volto quando non c'era nessuno da quando i sogni non davano a soli non ce la facevo più io non ho mai letto libri ma ho imparato a leggere queste persone amore l'essenziale invisibile agli occhi ho imparato a vedere col cuore a frotterli ma con il silenziatore treno per ore ora aspetto su Red Rover a soli non ce la facevo più dopo anni mille volte mille sbagli problemi risolti con la mia famiglia non lo comprerò con i soldi questi diamanti non mi renderanno nel vento questi non sono problemi da apporsi ancora batte nel petto e nei polsi mi cade giù un milione di views da quando ho cantato vabbè anche questa molto chill ci stai si è divertito con l'autotune si quasi quasi con l'autotune un po' yeah non ho mai fatto rap per i soldi o per fare il figo anche se il tuo cazzo di frigo non era come il mio figo anche se mi è morto un amico è la più importante del mondo ti prego di ascoltarmi un secondo volta due volte tre volte voto come Milano di notte ti volevo accanto stanotte ma il sangue nelle no ma questo è nabi come è nezza non riesco a capire ma spero che non sia questo ritornello no io spero questo come ritornello questo spacca come ritornello spero che sia questo ritornello è proprio questo se non me hanno cappato su questa cosa qua doveva essere l'altro ritornello questo è nezza bro mi stanno confondendo tutti e due hanno proprio la voce cazzo ma pensavo cazzo ma pensavo io mi hai portato solo qua iai 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 ok ok secondo me la cosa che ho sbagliato qua è il ritornello quella roba lì era da mettere come ritornello però per il resto è un bel pezzo eh secondo me secondo me è nezza secondo me è nabi secondo me eh questo doveva essere il ritornello chiusura dell'album solo un uomo la gente non nasce diventa cattiva se non gli dai un cazzo una prospettiva eravamo vediti con i lesogni comprare una villa scambandannato sono maledetto mi togli dal ghetto ma c'ho dentro il ghetto di un uomo come tutti gli altri non sono un uomo vivo pazzi e a non lo capisco io vado a parte e mi sono abbastanza sono un uomo e tu puoi perdonarmi oppure farmi persi come tutti gli altri pali fumare la cali ragazzi criminali non mi fido di puttana la notte scorsa la mattina mi alzavo portivo andavo di cuore prima volta che mi sono innamorato ero straniero quindi lei non poteva presentarmi ai suoi e lei è italiana quindi io non potevo presentarla ai miei comunque questa cosa qua io spero che adesso migliori come cosa perché è dura per gli stranieri a volte portare la ragazza o il ragazzo a casa ma questa cosa per l'italiana portare un nero cioè come si può immaginare che sono finanziata con un nero oppure decido io con chi stare perché magari conosco i miei genitori è gravissima sta cosa cioè i miei genitori vedono i marocchini quindi non potrò magari mi sono innamorato so che lui è l'uomo della mia vita ma non posso mettermi col marocchino perché ci sono i miei genitori ma di cosa stiamo parlando fra dove stiamo andando dove stiamo andando ma se sta cosa al contrario ci sono marocchini che ne ci sono padri e genitori marocchini algerini che non vogliono neri che dicono proprio alla tipa il nero carlouche con le robe lì non li vogliamo nella nostra famiglia e siamo fratelli di base di base siamo dello stesso continente in teoria poi in pratica questo album allora contando i pezzi che non ho ascoltato che conoscevo già è un bel progetto un bel progetto complimenti a Bisha a parte che alcuni pezzi non mi sono piaciuti tipo adrenalina giù anche non mi è entrato molto bene però per il resto mi è piaciuto un botto a me piace un sacco come album top 3 io ti metterei metterei l'odio albania comando perché la conosco e 6 del mattino anche guai mi piace fatemi sapere nei commenti la vostra top 3 dell'album cosa ne pensate del ghost secondo voi è un artista promettente o no fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della reaction se vi piace chi volete come prossima reaction il sabo del gottine siri vi saluta lascia un like è veramente importante iscriviti e soprattutto attiva la campanellina